segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e così c'è il fatto politico in questa vicenda che va ma scusa un momento catena c'è la notizia devo sentire anche menzolini e la chisleri ma l'ha fatta la telefonata dafne la tua senatrice renzi si o no dafne non risponde al telefono a nessuno se non chiede permesso a me da bollo siciliano un partito democratico democrazia pluralismo democrazia lo dico simpaticamente perché noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo una sola rappresentante ed è eccellente e si è distinta già in tante occasioni quindi è ovvio che da questo punto di vista non si può trattare di telefonata ma eventualmente di altri tipi di ragionamenti posso semplicemente dire questo io sono ovviamente interessato non a ragionamenti di bassa cucina che possono riguardare semplicemente la formazione di gruppo fare la stampella a qualcuno questo ci tengo a precisarvi siamo una forza che è nata ora all'improvviso siamo riusciti a leggere due parlamentari il guarda mirta tutti sanno che noi stiamo lavorando alle europee del 2024 quindi per noi qualunque ragionamento politico si possa fare in proiezione noi non abbiamo conclusione nei confronti di nessuno